... Dopo l'assumore di abruzione, la campagna di mesi scorti all'interno, come credo, di privilizzazione del governo, però ci sono state le puntezza degli studenti che hanno portato l'esercizio a ritirare quella proposta e ad avviare una consultazione online su tale tematica, partita il 22 marzo, quindi ragazzi vedete che possiamo cambiare le cose! Grazie a tutti!